Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Lo Stato italiano ha una sua quota di responsabilità per il disastro avvenuto all'Aquila la notte del 6 aprile 2009, dove a seguito del terremoto morirono 309 persone. Lo ha stabilito il Tribunale Civile che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a risarcire i familiari delle vittime del sisma per complessivi 8 milioni di euro. Una sentenza pesante nel giorno della vigilia di Natale, quella del Tribunale Aquilano, che si basa proprio sulle rassicurazioni prospettate dall'ex numero 2 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, già condannato con sentenza passata in giudicato a due anni di reclusione. La battaglia legale è stata portata avanti dagli avvocati Maria Teresa Di Rocco e Silvia Catalucci del Foro dell'Aquila e riguarda le risultanze del lavoro della Commissione Grandi Rischi, riunita all'Aquila il 31 marzo 2009. Nella sentenza, il giudice Baldovino De Sensi fa riferimento proprio alle frasi rassicuranti che erano state rese ad una settimana dall'evento catastrofico dall'ex numero 2 del Dipartimento. In particolare, in un passaggio della sentenza, riporta l'Ansa, De Bernardinis affermava che non c'era pericolo e che la comunità scientifica continuava a confermare che anzi era una situazione favorevole, uno scarico di energia continuo. Frasi che, secondo il Tribunale, condizionarono le abitudini della popolazione che rimase in casa invece di trovare riparo all'esterno. Rispetto alla condotta del governo, il giudice ritiene che lo Stato non abbia espletato le funzioni di controllo dovute nei confronti del Dipartimento, un organo facente proprio capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto invece agli 8 milioni quantificati dal giudice, il risarcimento nei confronti dei familiari delle vittime non sarà suddiviso in parti uguali, ma in base ai danni subiti da ciascuna delle 30 parti civili.